La Castellano Udas ha riposo in posto dal calendario della Serie C nazionale. L'Olimpica a Lecce ferra due punti pesanti. Dalla B2 donne alla D, passando per la C5 uomini. Libera Virtus, Pallavolo Cervignola ed Ipusea Udas, pronti a scaldare i cuori dei tifosi in un weekend imperdibile. Dopo la piccolaccia europea, la Roma prova a cambiare pagina in Serie A, affrontando la Sampdoria a Genova. Oggi in campo, Emboli Cagliari e Parvo Sassuolo. Fine settimana per il basket caratterizzato dal turno di riposo imposto dal calendario per la Castellano Udas e voglia di conferme per l'Olimpica Basket. Il campionato di Serie C nazionale discuta la sesta giornata del girone di andata senza i biancazzuri di Matteo Totaro. Dopo il K.O. della scorsa settimana, all'opera dell'Andrea Pasca Nardò, l'esito della partita non è stato positivo. Certo è che il tracollo nella seconda parte di gara non è piaciuto. Ora si cerca di fare quadrato per cercare di provare al meglio la trasferta di Napoli del prossimo 2 novembre. Per capire lo stato d'animo dei cannibali, Radio Sport ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo del Castellano Udas, Carlo Mancini. Proprio la seconda parte del match è stata favorevole ai Salentini. Noi siamo letteralmente crollati sia in dittesa che in attacco ed in un campionato come questo non ci si può permettere di distrarsi nella maniera più assoluta. Se avessimo avuto la giusta mentalità della prima parte, di certo avremmo portato a casa i due punti. Il turno di riposo non ci voleva proprio, volevamo essere in campo per essere sul pezzo alla pari con i nostri avversari e giocarcela per portare a casa la vittoria. In ogni caso un'assenza non indifferente è quella della Castellano Udas, in un turno dove la capolista Scappati cerca da lungo solitario col perpotenza, mentre l'Allianz San Severo, unica squadra della nostra provincia unbegnata, sarà di scena nella difficile trasferta a Pozzuoli. La terza giornata del campionato di segheci ragionare propone oggi per l'Olimpica Basket la trasferta contro la 3G Lecce. La formazione di Antonio Russo, dopo la sofferta vittoria in rimonta contro l'Altria Bari, si vedrà costretta a schierare ancora un quintetto in emergenza. E per Andrea Colapietro stagione finita. Il nostro giornale ha intervistato uno dei volti nuovi Castoro, che spiega come fondare i Salentini. Il Lecce è molto diverso rispetto alla stagione precedente, gioca a ritmi molto elevati e noi dobbiamo mantenere alta la concentrazione, cercando di non rivedere gli errori che abbiamo fatto al dieste. Vincere porta entusiasmo ed è ciò che vogliamo fare partita per partita, cercando di non deludere la nostra tibosia, lavorando sui meccanismi di gioco per trovare una ottima intesa tra i reparti. E sicuramente un fine si rimane imperdibile per gli amanti della pallavolo, con le squadre o pantine pronte a regalare emozioni forti alle rispettive tibosie. Si parte con la B2 nazionale, donne, che nella seconda giornata di campionato propone la trasferta della Libera Virtus in terra campana contro l'Oracom a Salerno, una delle formazioni titolate a vincere il campionato. Le ragazze, guidate dalla coppia Drago e Lucia, dopo il convincente esordio contro il Monte Scagioso, vittoria per 3-0, sanno che da ora in poi sarà dura portare via Monti lontano da casa ed in ogni caso si cerca di mantenere il 30 positivo. Esordio casalingo per la pallavolo FM in shop Cilignola al Pana di Leo, nella seconda giornata della seghe di femminile. Arriva il Volley Barletta, con la chiara intenzione del colpaccio. Le ragazze di Cocce Valentino, dopo il KO di titetto 4-3-0, hanno pagato l'esordio in questo torneo, ma con la convinzione davanti al proprio pubblico di regalare la prima gioia stagionale. Stessa cosa dicasi per la iposea Udas in serie 5 uomini, nell'impegno interno della seconda di campionato, domani contro il Trelicium Super Volley. Dopo aver accettato alle ortiche una vittoria sicura ad Altamura, erano avanti 2-1, poi KO 3-2. I ragazzi di Mister Ferraro cercheranno con la spinta dei propri tifosi la vittoria e cancellare l'amarezza iniziale della stagione. Dopo la parentesi europea, torna il campionato di Serie A con ben tre anticipi alla sabato per l'ottavo turno di andata. Si parte alle 15 con Empoli Cagliari, sardi reduci dal 2-2 contro la San Gloria e di Toscani dall'1-1 con il Genua. Alle 18 sfida dedicata in casa alle Tardini per il Parma contro il Sassuolo, reduce dall'impresa di aver pareggiato con la Juventus. Infine alle 20.45 la Roma, dopo il 7-1 in Champions League ad opera del Bayern Monaco, cerca i tre punti a Marassi contro la Sampdoria.